Buongiorno, uno dei progetti che ho attuato quest'anno è quello dell'autosufficienza alimentare e in questo ambito la coltivazione di un oliveto super intensivo. Questo oliveto si basa principalmente su due varietà, l'arbechina e l'arbosana, che sono varietà di origine spagnola. Queste si caratterizzano per il basso vigore, crescono poco, e per essere autoimpollinanti bisogna sapere che gli olivi sono entomofili, cioè si impollinano con il vento, mentre queste varietà, e hanno bisogno di impollinazione crociata, mentre queste varietà sono le uniche al mondo autoimpollinanti, quindi producono, in teoria ogni fiore produce un'oliva, la produzione è altissima. Qui ho messo giù circa un centinaio di piantine a distanza di un metro, anche se nelle coltivazioni professionali le mettono a 50 centimetri, le piante verranno alte circa 2-3 metri, deciderò io. C'è la possibilità sia di raccoglierle a mano, che lo farò finché ne avrò la capacità, fra 10-20 anni, quando sarò vecchio, ci sarà la possibilità di far passare una macchina scavallatrice, una macchina scuotitrice, e quindi far raccogliere le olive in maniera meccanicizzata. E cosa dire? Questo è l'esempio di un oliveto fatto al nord Italia, a Padova, uno dei primi, anche se non il primo, ma ce ne sono molti altri, di questo tipo di oliveto, che si caratterizza per l'alta produttività di questo tipo di olive. Perché Arbechina e Arbosana? Perché voglio vedere, ad esempio, l'Arbosana è molto resistente alla mosca dell'olivo, però non ama tantissimo le basse temperature, quindi bisogna vedere come si adatta nel nord Italia. Mentre per quanto riguarda l'Arbosana resiste di più al freddo, però è più attaccata alla mosca dell'olivo. Vedrò e voglio anche testimoniare, voglio anche fare una relazione, su come funziona questo oliveto di tipo amatoriale. Speriamo bene, dai, per ora ho piantato 100 piante, nei prossimi anni ne pianterò 100 ogni anno, vorrei arrivare tra le 500 e le 1000 piante nel mio terreno. Vedremo, ho attuato qui, come si può vedere, come si può vedere, una protezione in plastica, perché qui viviamo in una riserva di ripopolamento delle lepri, per cui le lepri qui mangiano tutto, ce ne sono a centinaia. E poi ho messo anche qui un tubo corrugato, perché voglio irrigare alle radici della pianta. Penso che l'irrigazione la farò solo per i primi anni, poi vedremo un attimino, e anche in base alla stagione, d'altro siamo anche al nord Italia, è vero che non piove, negli ultimi anni è piuto veramente poco, però mi aspetto che un minimo di pioggia ci sia, sicuramente di più che in Spagna, da dove provengono queste piante, e sicuramente di più del sud Italia. Le piante le ho comprate qui al nord Italia, costano circa 2 euro a piantina, e vedremo nei prossimi anni. Andranno in produzione tra i 3 e i 5 anni. Come dicevo, negli oliveti professionali di questo tipo, producono dagli 80 ai 120 quintali per ettaro, questo tipo di piante. Dall'oliveto sperimentale, dall'autoproduzione di Rocco Vladimir, è tutto, ciao ragazzi, ciao!